essere ciechi apre molte porte si ha accesso ad altri mondi la scienza ci permette di pensare che ciò che noi chiamiamo destino non è l'unico destino possibile ma esistono altre realtà parallele nelle quali tutto ciò che è probabile può accadere è possibile vivere più di una vita come una commedia dai molti finali ma non uno dopo l'altro tutti insieme simultaneamente